Innovazione, sostenibilità e opportunità di sviluppo anche occupazionale sono le caratteristiche del nuovo hub Hostage inaugurato a Vinci alla presenza delle autorità locali e regionali dalla Morelli Holding, leader nel settore della produzione di abbigliamento in pelle per grandi marche. Un onore per noi essere arrivati a questa giornata che è una tappa fondamentale del nostro percorso che è iniziato nel 2019, quindi prima del Covid, con l'acquisto dell'edificio poi purtroppo causa lockdown, abbiamo dovuto interrompere i lavori che sono ripresi solamente alla fine della pandemia e che purtroppo sono proseguiti con mille problemi e mille ritardi per la mancanza delle materie prime e per l'aumento dei costi delle stesse. Questa è una delle nostre migliori eccellenze è un'azienda che è stata capace di guardare avanti di essere innovatrice di farsi conoscere a livello internazionale dalle più grandi firme, dai più grandi brand che lavorano nel campo della moda. Noi siamo molto contenti di essere qui oggi perché ogni volta che un'impresa investe, crea lavoro, crea occupazione fa crescere un distretto importante come quello della moda le istituzioni devono esserci.